cari amiche e cari amici ben ritrovati e ben ritrovati ancora una volta in uno dei miei video in questa circostanza non vi parlerò come spesso mi capita di fumetti ma vi parlerò di un libro nella fattispecie l'ultimo libro da me acquistato che è quello che vi mostro subito e cioè cosa non ha detto tafti edito da oem om edizioni e autore del quale è va di zealand ecco qua ve lo mostro questa è la cover vi mostro la costa del libro la quarta di copertina con diciamo un breve riassunto di quello che possiamo trovare all'interno del libro stesso ma prima di entrare nello specifico del volume in questione mi pare diciamo corretto fare un breve escursus diciamo storico di tutte le pubblicazioni di vati in zealand in italia per chi non conoscesse diciamo l'autore in questione quelli che seguono questi video in genere sono molto più esperti di me quindi ne sanno più di me io mi limiterò a parlare solo dei volumi non entrerò nel merito del diciamo del transurfing questa pratica a cui fanno riferimento questi volumi però diciamo un minimo di spiegazione per chi non avesse mai sentito parlare di questa di questa tecnica secondo me è corretto darla quindi questo è l'ultimo dei volumi pubblicati pubblicati per l'appunto in italia per quanto riguarda vati in zealand quindi del recentissimo praticamente del di quest'anno io l'ho appena acquistato sul sito di macro edizioni la prima edizione per l'appunto per l'appunto per l'appunto è del maggio di quest'anno finito di stampare marzo 2020 diciamo ma che maggio no ma che dicevo è stato finito di stampare marzo 2020 io l'ho acquistato sul sito di macro edizioni visto le circostanze attuali il costo del libro è di 20 euro 20 euro e se andate sul sito di macro edizioni la cosa che può interessare potete trovarlo io a me è stato io l'ho acquistato col 10 per cento di sconto non mi hanno fatto pagare neanche le spese di spedizione quindi l'ho pagato 18 euro senza neanche le spese nel giro di 7 8 giorni mi è arrivato a casa in genere 2-3 giorni ma nella circostanza visto diciamo la situazione d'emergenza ci impiega 4-5 giorni in più quindi tornando a noi ma di che cosa parla questo questo libro si rifà al diciamo alle tecniche del transurfing questa è un'evoluzione diciamo delle tecniche del transurfing il tutto inizia nel 2009 con la pubblicazione della trilogia diciamo di partenza per quanto riguarda questo transurfing ma qualcuno mi dirà ma insomma ma ci dici che cos'è questo transurfing il transurfing ve lo dico in parole semplici per chi non ne ha mai sentito parlare ribadisco gli esperti ne sanno più di me il transurfing non è altro che una tecnica di gestione della realtà ideata da questo fisico russo tale Vadinzelad un personaggio molto misterioso che difficilmente si mostra in pubblico e quando si mostra in pubblico ha sempre un paio di occhialone scuri che in qualche modo ne nascondono la fisionomia quindi dicevo una pratica di gestione della realtà che insegna in poche parole a cavalcare le onde della vita come fa un surfista quando cavalca le onde dell'oceano cercando di seguire la linea giusta per evitare di farsi travolgere dalle onde stesse e così diciamo bisognerebbe fare cavalcando le onde della vita insomma in una specie di metafora ecco con il surf in poche parole ma questa è una definizione semplicistica cioè ma proprio terra terra ecco ma tanto per far capire con che cosa di che cosa si parla il primo libro fu pubblicato nel 2009 ve lo mostro la trilogia in una trilogia iniziale che regava come titolo reality transurfing il volume del quale fu lo spazio delle varianti poi successivamente nel 2010 uscirono gli altri due libri della trilogia fu l'uscito delle stelle del mattino e avanti nel passato che io ritengo sia il libro più importante dei più importanti più importante dei tre per chi fosse interessato la mia umida opinione poi successivamente nel 2012 uscirono questi un cofanetto il cui titolo era le regole dello specchio ma che conteneva due volumi il quarto la gestione della realtà e il quinto le mele cadono in cielo che io ho letto ma che non è che mi abbiano aggiunto insomma qualcosa di in più diciamo ecco poi sono usciti altri libri che io non ho acquistato quantomeno ne acquistai soltanto uno cioè quello che uscì nel 2012 transurfing vivo lo acquistai l'ho letto non mi fece praticamente aveva come argomento più che altro il modo l'alimentazione più che altro di Valenzuela i consigli sull'alimentazione di Valenzuela e tant'altro non è che era solo quello però in linea di massima è un'alimentazione crudista io non da buon secolo non amo molto il crudismo devo essere sincero per cui praticamente l'ho lessi addirittura l'ho regalato a una mia amica poi ci sono stati altri sono stati pubblicati altri volumi i tarocchi uno di questi era nel 2013 i tarocchi dello spazio delle varianti non acquistai questo libro all'interno erano contenuti dei tarocchi insomma delle carte dei tarocchi particolari che venivano usati per spiegare i principi del transurfing poi uscì nel 2013 sempre se non vado errato un altro libro Scardinale il sistema tecnogeno io questo l'ho letto l'ho acquistato in formato digitale ce l'ho conservato l'ho letto però diciamo che è un qualcosa che non ha aggiunto tantissimo ai principi del transurfing nel 2017 poi acquistai questo l'ennesimo volume transurfing in 78 giorni corso pratico per gestire la tua realtà è un volume che io consiglio a chi non abbia mai letto nulla del transurfing che non vuole acquistare tutta diciamo la letteratura precedente può tranquillamente utilizzare questo questo volume che vi spiega in maniera chiara e concisa tutto quello che c'è da sapere sul transurfing io penso così addirittura io ci avevo fatto 78 un video per principio però ero in un momento veramente ero molto acerbo come youtuber non è che erano dei grandi video comunque se qualcuno fosse interessato li può vedere ma vi posso assicurare che non erano granché come video vi consiglio sicuramente l'acquisto di questo volume e veniamo ancora prima di questo era uscito un altro volume il proiettore ecco l'avevo dimenticato che io non acquistai perché più che altro era diciamo sì una specie di come dire una specie di compendio molto breve con molte pagine in bianco in cui il lettore doveva notare diciamo i suoi obiettivi le sue sensazioni qualcosa che a me non mi non mi convinse più di tanto ma veniamo dunque veniamo arriviamo al 2019 quando arriva diciamo alle stampe in Italia il libro che ha dato diciamo una svolta in più al Transurfing e cioè Tafti la Sacerdotessa questo Tafti la Sacerdotessa in cui Zeeland ci presenta questo personaggio di Tafti che che ci dà modo di affrontare il Transurfing in una maniera più diciamo più potente diciamo perché ci spiega delle pratiche delle pratiche diciamo diciamo efficaci per poter mettere in atto i principi del Transurfing cosa che forse non era stata fatta nei precedenti nei precedenti volumi è un libro abbastanza chiaro io se voi siete ovviamente appassionati del Transurfing ve lo consiglio io penso che Tafti sia un personaggio immaginario anche se Zerro sostiene che esiste realmente però vabbè questo diciamo non è non è importante l'importante è cercare di afferrarne diciamo i principi e soprattutto cercare di metterli in pratica per chi è interessato a questa pratica di gestione della realtà ma io vi ho fatto questo breve escursus per chi non fosse a conoscenza di quello che è stato pubblicato in Italia da Vadim Zealand e quindi nel 2019 viene pubblicato questo volume ribadisco il cui sottotitolo è camminando dal vivo in un film la casa editrice non è più macro librarsi come quella precedente e tutti gli altri libri ma è home edizione ma lo potete trovare comunque sul sito di macro edizione tranquillamente su altri siti nonché in libreria quando riapriranno le librerie ma veniamo praticamente all'ultimo quello che magari voi del quale voi siete magari più interessati a conoscere qualcosa io come detto prima mi limiterò a parlarvi esclusivamente del diciamo del libro non entro in merito non esprimo giudizio non entro in merito nella descrizione degli argomenti trattati dal libro non è questo diciamo non ho voce in capitolo cioè non sono io diciamo titolato a tal punto da poterne parlare ecco ci sono altri più bravi di me più in gamba di me che continuano a pubblicare video su youtube per quanto riguarda il transurfing se volete potete rivolgere rivolgervi a tali canali ribadisco il titolo di questo libro è cosa non ha detto Tafti chiarisco sempre di home edizione come ho detto all'inizio chiarisco che che cosa succede che in Russia dopo la pubblicazione di Tafti la sacerdotessa Zeeland è andato alle stampe un secondo volume il cui titolo se non vado erraro era la sacerdotessa Itfat qualcosa del genere in cui era una specie di romanzo che vedeva la protagonista una certa Matilda ma in Italia non è stato ancora tradotto e non è mai stato pubblicato fino ad oggi dovete sapere che in Italia le pubblicazioni di Zeeland sono state pubblicate anche diciamo in maniera non perfettamente cronologica rispetto alle uscite nella madre Russia ecco e anche in questo caso non si sono smentiti quindi Itfat non è stato non è stato ancora tradotto non è stato pubblicato e invece viene pubblicato adesso ripeto a marzo del 2020 io me ne sono accorto diciamo nel mese di aprile che era disponibile sul sito di macro edizioni viene dato alle stampe questo cosa non ha detto Tatti io l'ho immediatamente ordinato vi posso dire di che cosa si tratta in pochissime parole cioè siamo di fronte a un libro diciamo costituito da 19 capitoli 19 capitoli più la nota della traduttrice è un appendice è un appendice in questi 19 capitoli per ciascun argomento che fa riferimento al libro La principessa Tafti abbiamo praticamente le domande che i lettori hanno rivolto a Zeeland e le sue risposte suddivise per argomenti quindi per tutti i 19 capitoli per alcuni capitoli per esempio ci sono per alcuni argomenti come per esempio la famosa treccina ecco per chi ha letto il primo libro sa di che cosa sto parlando ci sono più capitoli addirittura e così anche per altri argomenti quindi risposte e chiarimenti che Zeeland dà alle domande dei lettori così è impostato tutto il libro e poi dopo le risposte alle domande vengono praticamente pubblicate le esperienze che i lettori hanno comunicato a Zeeland tutto il libro è impostato in questa maniera quindi se vi aspettavate magari qualcosa diciamo in più non non credo cioè magari restate un po' delusi come un po' lo sono rimasto io libro per chi è appassionato di questa di questo transurfing ovviamente imperdibile non si può non si può non avere però un pochettino mi ha lasciato con la mare in bocca adesso non l'ho finito di leggere completamente però vi ho dato una bella lettura buona parte l'ho letto una buona parte e diciamo il trend è sempre quello cioè domanda del lettore risposta di Zeeland e alla fine di ogni capitolo una serie di testimonianze sull'efficacia delle tecniche indicate da Tafti ecco questo è il quello che troverete all'interno di questo di questo volume vado in Zeeland cosa non ha detto Tafti il costo del volume come ho detto all'inizio credo adesso non ricordo è di 20 euro io l'ho preso per 18 euro come ho spiegato all'inizio se qualcuno vi fosse interessato insomma sul sito di macroedizione lo trovate facilmente e io non posso fare altro che consigliarvene l'acquisto se siete degli appassionati di questa pratica di gestione della realtà che è il transurfing e della sua evoluzione con queste nuove diciamo dritte che ci dà Tafti la sacerdotessa detto questo cari amiche e cari amici non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore augurandovi un buon weekend perché oggi è sabato e dandovi appuntamento come sempre a voi piacendo al mio prossimo video e come sempre alla prossima a